Torniamo al dungeon e cambierei squadra, però chi mettiamo? Forse dovrei mettere lei al posto di Teddy, eh? Ritorniamo in cima. Non penso ci sarà nulla di complicato. In ogni caso, speriamo bene. Sento che è dietro questa porta. Vuoi aprire la porta? La porta è sigillata da un potere misterioso. Tenebre neri come la pezza furiescono dalla sfera dell'oscurità. Tadadadakang. Non penso che lui sarà in squadra con noi. Non penso proprio. Io continuo a non credegli. Ovviamente quello che esce il fumo. Ora dirà tu non sei me. Quanto ci fai? Secondo me lui si è preso il titolo di aver ucciso quelle persone, ma non è lui. Ovvio che no. Certo, certo. Ovviamente. Perché ti porteremo alla polizia. Ahà, e me lo dici con quella maglietta. Cosa schifo è? Che schifo sei? Dio mio. Sì, certo. Ti piacerebbe. Siamo solo a luglio. Perché ho l'impressione che basti un colpo per ammazzarlo? Ah! Vabbè. Questo è già diverso. Chi l'avrebbe mai detto, Rize? Grazie, tesoro. Bella gli 8-bit. Io non ho nulla che abbassa le statistiche, vero? Bellissima! Bellissima! Dio mio! Aumentiamo la chance di critico. Vediamo cosa succede. Tu? Non avevi mica una che ci aumenta l'attacco? Vabbè. Aiuti nulla, dai. Vabbè. Iniziamo ad attaccare, allora. 146, dai. Ma... Che figo! Che figo così! Due turni? Bomba! Aia! No! Alterazione! Va bene. È il momento di fare a botte, stronzo. Vediamo, Raffaele. Adoro sta musica. Quanto gli faremo con concentrazione? Vediamo. 375. Non male. Non male. Danno di ghiaccio. Ho l'impressione che non sia debole a nulla. Però, più lo stiamo attaccando, più si apre. Quindi, proviamo anche con i colpi fisici. Ehi! Ok. Uh, critico. Perfetto. Allora, intanto... Curiamo le alterazioni di tutti. Che non voglio che succeda qualcosa. Di nuovo, bomba? Ti sta bene. Va bene. Non importa. Allora, abilità. Di nuovo, trono. Di nuovo, concentrazione. Tu. Vediamo. Danno fisico medio. Niente di utile. Rivoluzione di nuovo. Aumentiamo ancora il critico. Ah, già attivo. Non me lo fa continuare. Vabbè, allora. Bufola. Volevo estendere ancora la... La chance, però. Abbassiamo io ancora la precisione. Tu. Ah, no. Ho sbagliato. Aguilao. Mi piace un sacco sta musica. Semplice, pulita. Mi piace, mi piace, mi piace. Sai che ci ho sperato lo evitasse. Ci ho sperato tantissimo. Va bene. A cosa siamo affetti? Non posso vederlo, vero? Va bene. Allora, abilità. E speriamo di colpirlo. Ti sta bene. Eh, sono caduto. Ovviamente. Spaccagli la faccia anche. Ahi. La vedo dura. La vedo dura. Mi sa che è più resistente di quanto mi aspettassi. Chance di critico ristabilita. Dobbiamo sperare di ucciderlo fino a subito, sai? A meno che non abbia una debolezza specifica. Non so cosa fare. Aia. Ok. Sei forse debole al vento. Questo mi stai dicendo. Allora, proviamo. Ho sbagliato. Dovevo usare l'altra. Ho sbagliato. Dovevo usare l'altra persona. Allora. Ecco qua. Volevo usare Gabriel per curare tutti. Ho sbagliato. Più che altro spero che non faccia un'altra armatura. Spero di quello io. Allora. Vai. Avrei dovuto usare Amrita, lo so. È debole al vento, ma usa il vento? E usa anche Megidola. Aia. Aiaiaiaiaiaia. Sì, e poi? Quanti altri attacchi vuoi fare? Eh, grazie. Maledetto schifoso nano. Bravissimo Kanji. Ecco qua. Cazzo, è più resistente di quanto non sembrasse sto bimbo, eh. Però dobbiamo togliere i zanaghi. Non abbiate paura. Pure. Bimbo di merda ti odio. Solo i pantaloni, eh. Va bene. Ci penso io. Sono concentrato? Sai che non lo so? Sai che no. Vabbè, per essere sicuri. Continuiamo ad attaccare con Raphael al momento. Centodieci. È più resistente di quanto non voglia sembrare sto bimbo schifoso. Sto bimbo di merda è più resistente di quanto non voglia credere. Più che altro non so. Eh, mi sa che si formerà lo stesso il guscio, che io lo voglio o meno. Ecco, ovviamente. Faccia di merda. Allora. Sono impaurito, è vero. Però io ho la mrita soda, che ci può curare a tutti. Mi dispiace. Niente più paura per noi. Non so cosa usare, sincero. Perché sto nano è più resistente di quanto non sembri. Madonna quanto ti sta bene. Ti sta bene, nano schifoso. Cazzo, avessimo avuto Yosuke adesso. Adesso ho avuto Yosuke, è molto più semplice per noi. Curiamo tutti. Sto cubo del caulo. Ma, cosa sei debole? Ah. Vuoi vedere che in realtà non è debole al vento? Aia. Mi sa che non è debole a nulla, sai? Non abbiamo neanche provato il fulmine. Qualcuno ce l'ha il vento? Beh, Raffaele ha il fulmine volendo. Proviamo con Baphomet. Vediamo, non ci abbiamo provato effettivamente. Ma dici che funziona? Ha aumentato il coso alle... Ci provo ma non ho nessuna... Nessuna certezza che funzionerà. Ovviamente. Ovviamente lui abbassa... Aumenta la probabilità che tutti prendano le... Gli status negativi. Prende lui. Ovvio, ovvio. Certo, certo. Bastardo. Bastardo. Certo che comunque questo ad ora è il... È il combattimento più lungo che abbiamo fatto. Certo, non lungo perché è difficile. Ma lungo perché ha... Tra tanta difesa. Ma perché non muori e basta invece? Ancora. Basta con sto cazzo di corpicino. Ah, a questo giro ce l'ha fatta a due giri, eh? Va bene, va bene, va bene, va bene. Colpa mia comunque. Colpa mia. Cambiamo. Trono. Abilità. Concentrazione. Ovviamente. Tu. Ma... Bufuma. Dobbiamo fare più danno possibile prima che ricreai il tutto il corpo, ovviamente. Proviamoci anche con... Con l'elettrico, ma non... Dubito che sia debole a nulla. Ovviamente. Tu... C'è ancora il muro rosso, immagino, quindi... Certo. Che palle. Sei veramente un bambino stupido. Aia. Ed è pure impaurita. Benissimo. Allora. In ogni caso siamo concentrati. Vai con... Rafael. Abilità... Megidolan. Sperando di fare... Un bel po' di danno. 264. Ne serviva un po' di più. Ancora un po' di... Aia. Dio mio. Che testata. È una ragazza. Io continuo a dire oggi, ma devo dire Kanji. Speriamo che questo turno non sia il turno in cui lui ricrei tutta quanta la cosa, perché non mi va di rifarla tutta. Vai. Ricaricati. ISP. Ecco. Lo sapevo. Lo sapevo. Adesso lo ricrea di nuovo tutto. Oh. Eh, devo uccidervi. Che palle. Ah. La resistenza al fuoco. Vai. 130 di danno. Aia. Tron, tu sei debole al fulmine. Meno male di no. Allora. Di nuovo. Concentrazione. Ecco fatto. Ecco fatto. Abilità. Bufula. Speravo di... Di ucciderlo molto prima. Ci ho sperato veramente tanto. Purtroppo non è andata come speravo. Come è mancato. dai. Kanji. Kanji. Che cazzo. Kanji. Maledizione. Eh, di nuovo. Sta bomba delle palle. Vabbè, tanto a... A lei se mi toglie... Dicevo, se mi toglie ISP non mi importa molto. Se mi toglie a noi è un problema invece. Detto ciò. Megidolan di nuovo. 395, Dio mio. Proviamoci. Proviamo ad aumentare la probabilità di critico. Eh, certo. Sta durando fin troppo. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo durasse così tanto sto scontro. Ti giuro che se lo schivava ci godevo un sacco. Ancora sta bomba? Basta! Che peso che sei. Mamma mia. Sei veramente un dito nel culo fastidioso. Sei veramente un bimbo stupido, tra l'altro. Te lo aggiungo io. Non peraltro la tua ombra è proprio un bambino. Detto ciò. Continuiamo a spammare finché non li finiamo. Dovrai riuscire a morire, eh. Prima o poi. Mi sembra molto uno scontro alla Okumura questa. Mi sembra veramente uno scontro alla Okumura. Speriamo che lo status passi da solo qualcuno ci curi. Sincero. Non mi va di perdere un turno solo per togliermi l'alterazione. Ancora. Ma che falle. Quanto ti sta bene. Eh, certo. Non è servito a nulla perché giustamente è ancora nella sua armatura di merda, ma... Dai, manca poco. Manca poco e cade. Dai, perfetto. Dai che ti manca poco e sei morto. Stupido bambino. Stupido bambino. Dai, 110. Di nuovo. Oh, perfetto. Allora. Beh, lei c'è ondata di caldo per il momento. È la cosa migliore che possiamo fare. Gli attacchi fisici, vai. Un po' poco, eh. Un pelino poco. Detto ciò, aspetta. Oggetti. Di nuovo. 100 SP. Ecco qua. Chance di critico ristabilita. Dobbiamo sperare di ucciderlo il prima possibile. Dobbiamo veramente sperarci. Allora, aspetta. C'è però qualche oggetto utile? Proviamo ad aumentare l'attacco, dai. Madonna mia, quanto mi stai sulle palle. Bambino di merda. Voi non avete idea di quanto mi stia... Sui coglioni sto... Sto... Dio mio. Ti odio. Ma ti odio veramente in una maniera terribile. Credimi. Ti odio veramente tantissimo. Ok. Bravissimo, Kanji. Tu sì che sei un uomo. Tu sì che sei un uomo. Dai, oh mio. Manca poco, manca poco, manca poco. Veramente poco per ucciderlo. Più che altro è la musica che è sbagliata per questa parte. Sì, ti piacerebbe. Sì, ti piacerebbe. Che fai un uomo di merda. Non è giusto che attacca tutti sti turni. Tre turni attacca. Cristo. Dobbiamo sperare di ucciderlo prima che si ricompone. Dobbiamo sperare di ucciderlo. 355, dai. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi, dai. 134, dai, vi prego. Ce la potete fare. Yes. Oh, finalmente è finita. Vai, lancia la nostra tosfera. Veramente odioso. Per tanti motivi. Odio chi fa... Chi è adulto e fa il bambino di merda. Odio i bambini che fanno questi versetti del cazzo. E soprattutto avevi troppa vita per quello che sei di personaggio. Troppa. Perfetto, siamo saliti di livello, però. Anche Rize sale di livello. E basta, solo noi due. Ti prego, tirategli un calcio in faccia, dai. Mamma mia, altro che spina nel fianco. Io vorrei che Cangelo pestasse. Io non sono ancora convinto. Siamo venuti a parlarti. Ancora. Accetta la realtà che non sei stato tu, dai. Certo, certo. Io vorrei che lo pestaste. Sincero, vorrei che lo menaste fino alla fine. Non si capisce? Teddi, sei buono. E' l'unica cosa che ti preoccupa? E' l'unica cosa che ti preoccupa? Che cosa ti preoccupare? Perché ti preoccupare? Perché ti preoccupare? Perché ti preoccupare. Perché ti preoccupare? In realtà, mi piace. Perché ti preoccupare. E come sei entrato nel mondo della TV? Come facevi? dai spiegaci esatto come hai fatto io gli tirerei un calcio qua di rovescio mamma mia questo è il movente vero dell'assassino ma non sei tu io continuo a credere che non sia lui sono bravo Kanji è come gliela spieghi che avete catturato il colpevole come glielo spieghi che l'avete catturato scusami game over io ne dubito comunque ne dubito Teddy ne dubito c'è qualcosa di totalmente sbagliato in tutto questo anche fosse ammesso che sia lui il colpevole non siamo neanche a metà di un anno che siamo qua e già abbiamo risolto il caso o come dico io lui è sotto controllo di qualcuno oppure oppure potrebbe non essere l'unico assassino potrebbe esserci anche questa possibilità sti ricatti morali una specie di rana gigante un problema di ombra un problema di ombra parti basta hai rotto il cazzo Teddy sei pesante Dio mio eh vabbè apre settimana prossima post estate eh esatto perché in teoria abbiamo ancora il periodo fino alla prossima nebbia quindi probabilmente adesso dice di no ma appena finisce la nebbia si farà la festa c'è anche Nanako ok casualmente c'è proprio stasera quanto ci fai tu stai lontano dai fornelli pazza assassina no no la tragedia Dio mio oh no secondo me Kanji è bravo a cucinare sentiamo dai spara ti dirò che non è una cattiva idea ti dirò che non è una cattiva idea bravo Teddy ah vabbè ah vabbè perché ho l'impressione che Ciai si prepara qualcosa bene sia solo carne oppure farà solo schifo Cristo Junes al reparto alimentari hai deciso di chiamare Nanako per avvertirla della competizione culinaria sentita hai, Tójima desu ah, o nii-chan o nii-chan un 今日も ossoi te è? ご飯? o nii-chan tanti che? nannako c'è? nannako c'è nannako c'è nannako c'è nannako c'è? Dio mio che patata lei Hai riattaccato grazie Nanako sembrava entusiasta Oh no Non ho capito neanche io Questa zona di silenzio qui ora In che senso Che tipo di omelette intendi preparare? Allora io sceglierei la mediterranea Però è troppo probabilmente speziata per Nanako entrambe Ketchup è un po' troppo per bambini Però a questo punto andrei sul semplice Comunica Yosuke la lista degli ingredienti che ti servono Tutti hanno portato i loro ingredienti nel carrello Sarà troppo e alla bambina non piacerà di sicuro Oh no Quelle due lì Ma quel ketchup O è birra Esatto Oh no Allora Che cosa dico Kumakuma? Nè nè O nè Sì Allora 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 Chiunque Ma dio mio Oh no ci sta riuscendo con la donna sposata Voglio vedere questa scena animata Voglio vedere questa scena nell'anime ti giuro Bravissimi Tu chi sei? Non gli parlo Oh si preoccupa anche per Teddy Si preoccupa anche per uno che appena conosciuto Non preoccuparti non devi tornare dentro Beh ma la promessa può essere anche di rimanere Ci sentiremmo soli senza di te Anche se non è vero ti odio però Sì ma non è una casa nostra per favore Anche se Nanako non sa in cosa si sta mischiando però A Teddy lacrimano gli occhi Livello 4 Quella faccia però sulla stella Dio mio La finita sociale di Teddy è raggiunto il livello 4 La stella è migliorata Influenzata anche la sua persona In che modo? Re Carm Oddio non è buona ma non è neanche malissimo Quindi resterai a casa mia Le sta bene Chissà cosa voleva dire io Su che però E' poco etico Eh esatto Eh ma c'ha ragione dai Qual è la nostra quella lì davanti a noi No quella rossa è quella di risa Sì era quella rossa Oh no No In ogni caso dovresti assaggiarla anche tu Eh beh E' piccante La piccantezza e il calore sono come lava nella tua bocca Non riesci minimamente a sentire il gusto del foie gras Inizia a sapere di ferro Per qualche motivo avverti anche il dolore acuto alla bocca Dio mio Nanako non può assolutamente mangiarla Oh no Kanji mi dispiace Kanji? Basta Lascialo un po' anche agli altri Beh a quanto pare Non sembra insipida Ma non percepisci nessun sapore in particolare Anzi proprio nessun gusto Nemmeno quello degli ingredienti Com'è possibile? Non è buono Oh no Dio mio che cattiveria però Siamo in due a dirlo Mi spiace Anche se non le piace Oh no Ah è quella Ok Non sento niente Oh no Nessun muore Sì ha un sapore terribile Beh dai almeno quello Poverina A me piace Adesso muore Adesso muore Eh certo Eccolo Eccolo E' morta Almeno questo giro Oh ti strappa un po' il cuoricino No Nanako Non lo fare Morirai Nanako Non mangiarla Per favore Ti farei del male Oh no Ora l'abbraccia Oh no Ma intanto Yukiko è ancora lì morta È quella Vai mangiala L'omelette sembra successone La sta mangiando con gioia Incontentabile Incontenibile Nanako ha spazzolato la tua omelette Pienissima Ovviamente Vado a ordinare una pizza Non penso Non penso Penso che dovrebbero andare a casa Per metterlo Vero Certo che puoi Ma certo Ebbè certo Ebbè certo E' proprio quello il bello Ecco Ecco Ebbene 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 Ebbene